Buonasera a tutti, bentornati in un nuovo video. Oggi con queste carte andiamo a vedere in che energia siete e quale energia state attirando in questo momento. Vi ho preparato questi tre oracoli in superficie sui mazzetti e potete affidarvi all'immagine per scegliere la vostra variante. Osservate bene le tre immagini che vedete qui e fatevi attirare da quella che è magneticamente come se avesse un richiamo nei vostri confronti. Può essere che anche più di un'immagine vi attiri, in quel caso potete ascoltare anche più di una variante. Per scegliere poi vi metterò le tempistiche sotto nell'info box, quindi potete andare ad aprire e a guardare esattamente il minuto al quale inizia la vostra variante. Vi ricordo che questo video è valido nel momento in cui l'avete aperto e non soltanto quando viene pubblicato. Ok, io procedo subito con la variante numero uno e se avete bisogno di più tempo potete mettere in pausa il video. Variante numero uno, eccoci qui. Tutte le tue carte sono uscite al contrario. Questo significa che c'è un grande blocco nella tua energia, quindi bisogna andare a lavorare su quello. Andiamo a vedere poi in soldoni di che cosa si tratta. Allora, entra nel tuo potere, ci dice questo oracolo, quindi c'è proprio una resistenza per quanto riguarda la tua energia personale, il tuo potere, quello che tu puoi manifestare come persona. E' proprio il controllo della tua vita, degli eventi, di quello che ti succede e sembra quasi che tu sia in balia di qualcuno o di qualcosa. Questo otto di spade, al contrario, mi dice che c'è una situazione nella quale ti senti soffocato o soffocata particolarmente. C'è una persona che sta tenendo tutta la tua vita e anche te come persona in scacco. Potrebbe essere una relazione d'amore, una relazione anche familiare. Sappiamo che molto spesso anche nelle famiglie succede questo. E anche una relazione magari semplicemente lavorativa, quindi un capo, un collega che ha potere su di te e che riesce a tenerti appunto in scacco. Usando magari qualche ricatto o usando dei, come dire, dei comportamenti che sono passivo-aggressivi. Quindi attenzione a questa cosa. Inoltre vedo che abbiamo queste due carte sempre al contrario. La papessa, al contrario, ci dice che se hai qualche progetto in mente o se hai qualche obiettivo in mente, in questo momento non sei nell'energia di perseguire questo obiettivo, di realizzare. Non è una energia positiva per la realizzazione, ma semplicemente perché non sei nella frequenza. Quindi bisognerebbe fare qualcosa per cambiare questa frequenza. E onestamente mi sento di dirti di entrare nel tuo potere, proprio perché ce lo dice l'oracolo anche. Entra nel tuo potere, sbarazzati di queste persone. Allontana le persone che vogliono solo tenerti in scacco, o comunque farti del male in questo modo, perché tu hai qualcosa di più importante da fare, ovvero raggiungere i tuoi obiettivi. Vedo che uno dei tuoi obiettivi potrebbe essere proprio il creare una famiglia, o comunque avere una comunità di persone, o una cerchia di persone con le quali sentirti a casa. Sentirti veramente riconosciuto e anche sostenuto in quella che è la tua vita e le tue scelte. Questo in potenziale c'è, perché abbiamo la carta, però è purtroppo solo in potenziale, perché la tua frequenza non è ancora giusta per attirare questi eventi che desideri. Andiamo a vedere con gli oracoli se c'è un oracolo per te. Andiamo a vedere se c'è un oracolo per te, per quelli della variante numero uno. Allora, ne abbiamo direi più di uno, andiamo un po' a vedere che cosa ci dicono. Opportunità. Ascolta la tua intuizione, no, e grandi e felici cambiamenti. Allora, il messaggio che ti vogliono dare questi oracoli è molto chiaro. Probabilmente per attirare le opportunità devi ascoltare la tua intuizione. C'è qualcosa che non ti convince nella situazione nella quale sei, e infatti la tua intuizione te lo urla a gran voce, però forse spesso tendi a non ascoltarla tanto, lasciarla un pochettino in secondo piano. Invece quella è la voce che ti vuole guidare verso la strada giusta. E soprattutto questa tua intuizione a volte ti urla a gran voce di dire no alle persone che magari poi in realtà si, come dire, mostrano per qualcuno che ti vuole soltanto sfruttare, o comunque qualcuno che poi si ruba il tuo tempo e a te non rimane più questo tempo per dedicarti a te stesso o te stessa. Quindi prova a imparare, come dire, a dire di no proprio, impara a dire di no di più, più spesso, perché ricordati sempre che dire un no a qualcun altro significa dire sì a te stesso, e se non ce la fai a dire no agli altri, di sì a te stesso, e poi di conseguenza dovrai dire no alla persona che ti chiede attenzioni. Questo, se imparerai a fare questo, questa energia provocherà grandi e felici cambiamenti, quindi questa è la risoluzione dell'energia, come dicevamo prima, per cambiare la tua frequenza. Tu devi andare verso questa, come dire, questa energia del no proprio, quindi di dire no, di chiuderti un pochettino quando non vuoi essere sempre disponibile. Questa è la tua lettura, spero di essere attestata di aiuto, se ti va fammi sapere nei commenti, io ti abbraccio e noi ci vediamo domani sempre alle 20 con un nuovo video, io passo subito alla variante numero 2. Eccoci qui, variante numero 2. Allora, tu hai delle carte molto molto belle, come apertura della stesa abbiamo questo oracolo che dice lasciati andare, quindi cerca di dare più adito al cuore, a quello che ti porta il nuovo. Ti dico una cosa, probabilmente potresti aver sofferto tantissimo, infatti vedo questo 9 di spada al contrario, che me lo testimonia, e credo che tu abbia dovuto un po' riprogrammare il tuo inconscio, perché era come se il tuo pilota automatico fosse stato compromesso, cioè inconsciamente andassi ad attirare a te e a cercare delle situazioni che ti facevano male, che ti sabotavano anziché aiutarti. Adesso quello che ti dice questa carta è che probabilmente se hai fatto un lavoro per riprogrammare il tuo inconscio, questo lavoro è andato a buon fine, quindi adesso ti puoi fidare del tuo cuore, ti puoi fidare del tuo intuito, del tuo istinto, e del tuo pilota automatico. Cerca di lasciarti un pochino più trasportare da quelle che possono essere le sensazioni, i sentimenti, la voglia di rapporti umani, la voglia di nuovo, la voglia di apertura. Qui infatti vedo davanti a te con questo sette di coppe tante opportunità che stanno arrivando o che si sono già palesate davanti a te. Sono delle opportunità molto diverse fra loro, in certi casi, molto anche variegate e che richiedono anche di scegliere però da parte tua, quindi sappi che dovrai scegliere tra queste opportunità per concentrarti e canalizzare le energie su una di queste. E' molto importante che tu riesca a fare chiarezza dentro te stesso o te stessa a capire che cosa vuoi realmente per andare proprio in quella direzione. In ogni caso l'universo ti sta portando tutte queste opportunità perché devi avere il modo di scegliere. Forse non hai mai sperimentato bene davvero ciò che ti piacerebbe e sappi che se non sono ancora arrivate queste opportunità arriveranno a breve. Devi solo fare un piccolo passo, lasciarti andare e seguire la corrente, seguire il flusso. L'universo risponde subito e ti manda subito molte, molte opportunità. Io vedo che questa nuova energia ti permetterà di lasciarti alle spalle questa sofferenza che hai provato per tanto tempo e che molte volte diventava proprio una chiusura mentale, quasi neurotica, un'ossessione, pensieri ossessivi che non ti lasciavano dormire la notte, continuamente ti chiedevi magari se hai fatto bene, se hai fatto male, rimuginavi sul passato. Ecco, tutto questo sta finendo, sta terminando, così come stanno terminando i conflitti che hai dentro e i conflitti anche di conseguenza con le altre persone. È una nuova energia questa qui che ti può portare veramente allo sgretolarsi di tutte quelle che sono stati i tuoi costrutti mentali, quelli che puoi chiamare paranoie o pensieri ossessivi, quindi quello che ti costringeva magari a rimuginare per tanto tempo. Vedo tanti rimugini di pensieri nel tuo passato e nel tuo passato anche più prossimo, quindi quello che magari potrebbe essere ancora per alcuni di voi il presente. Quindi vedo che in realtà se entrate in questa energia, entrerete in questa energia che vi solleverà tantissimo da questi affanni. Andiamo a vedere se c'è un oracolo per te, un oracolo per quelli della variante numero 2. Un oracolo per quelli della variante numero 2. Eccolo qua. Allora, trust, quindi fiducia, fidati, sfortuna, sfortunatamente, è un anno da adesso. Allora, questo mi dice qua, questo messaggio, messaggio che probabilmente hai vissuto precedentemente degli eventi che ti hanno fatto sentire sfortunato, ti hanno fatto sentire come se quasi non ci fosse speranza per te di stare meglio, o comunque alcune cose che speravi non sono andate in porto, come magari un matrimonio, un affidanzamento, una relazione per tanti di voi, oppure magari un progetto di vita, un lavoro, qualcosa di magari economico per altri. Quindi questa sorta di fallimento che hai provato ti ha fatto sentire sfortunato in un certo senso. Gli oracoli ti intimano a fare una cosa, ti incitano a fare una cosa, perdonami, ti incitano a proprio fidarti di quella che è la tua forza innanzitutto e anche quelli che sono i tuoi poteri innati che stanno dentro di te, risiedono dentro di te, quindi è importante che tu riesca a fare questo perché di conseguenza attirerai anche l'aiuto dell'universo, attirerai anche le forze dell'universo che già si stanno muovendo per farti realizzare i tuoi risultati. In un anno da adesso vedo grandissimi cambiamenti nella realizzazione di qualcosa di grande, perché un anno che dirai una tempistica lunga, perché forse i cambiamenti che devono avvenire sono veramente grandi e quindi ci vuole un po' di tempo per la realizzazione. Questa è la tempistica degli oracoli, quindi non ti preoccupare se hai paura di non realizzare questa cosa, di non realizzare i tuoi sogni, entro un anno avrai tantissimi, tantissimi cambiamenti, credo che la tua vita potrà rivoluzionarsi completamente. Io spero di esserti stata di aiuto con questo messaggio, ti saluto e noi ci vediamo domani sempre alle 20 con un nuovo video. Io passo subito alla variante numero 3. Eccoci qui, variante numero 3, andiamo a vedere che cosa dice il tuo messaggio. Abbiamo purificazione all'inizio della stesa, poi abbiamo il re di bastoni, il nove di denare al contrario e la temperanza. Dunque, queste carte mi dicono che probabilmente in questo momento stai aspettando di ricevere qualche informazione da qualcuno oppure stai aspettando che arrivi una persona nella tua vita, magari una nuova persona oppure una persona del passato. Io vedo per molti di voi che c'è proprio una necessità di purificarsi dalle energie del passato. Se state aspettando il ritorno di qualcuno potreste veramente necessitare una purificazione dagli eventi passati quindi se dovesse ritornare questa persona riaccoglierla senza più ripensare a quello che magari è successo in passato potrebbe far ritornare la vostra relazione a splendere. Se invece state aspettando una nuova persona che potrebbe essere appunto il re di bastoni quando arriva in questo caso vi conviene ripulirvi da tutte le memorie del passato con molta leggerezza perché in questo modo potrete entrare nella nuova relazione con una mente aperta senza andare a inquinare anche quello che sarà il nuovo rapporto in questo modo. Sappiate che per quanto riguarda gli aspetti economici della vostra vita probabilmente con l'arrivo di questa persona o di questa notizia se è una notizia che state aspettando potrebbe essere che non dobbiate più fare tutto da soli dal punto di vista economico magari potreste avere un aiuto da parte di questa persona potreste avere un complice qualcuno che vi stia appresso che vi aiuti quindi questo è un bellissimo messaggio abbiamo in fondo la temperanza che ci dice di aspettare ancora un po' perché se non arriva subito questa persona o quello che state aspettando è semplicemente perché le tempistiche divine si stanno preparando affinché tutte le cose vadano a incastrarsi tutte le situazioni vadano a incastrarsi perché voi possiate incontrare questa persona o ricevere quello che state aspettando c'è bisogno di pazienza pazientate ancora un po' perché il divino è all'opera verso la realizzazione dei vostri obiettivi andiamo a vedere se c'è un oracolo per voi un oracolo per quelli della variante numero 3 riconsidera questo lo vedo possibile per chi sta aspettando una persona del passato e può essere che semplicemente dobbiate riconsiderare quella persona i suoi atteggiamenti o quello che pensate di quella persona potrebbe essersi comportata magari male però in questo caso tutti evolviamo tutti cambiamo quindi potrebbe essere che questa persona adesso si possa comportare diversamente invece se state aspettando una persona nuova probabilmente avete degli schemi mentali per i quali credete che tutti gli uomini o tutte le donne in caso vedete voi come vi corrisponde tutte quante le persone che potrebbero i vostri partner possibili non siano in grado di farvi stare bene di essere felici se avete questa credenza o credenze di questo genere sappiate che dovete veramente riconsiderarli perché queste credenze così negative vi portano poi ad attirare esattamente quello che credete quindi per attirare queste cose è necessario riconsiderare certi vostri meccanismi andiamo a vedere se c'è un altro oracolo per voi ce ne sono un bel po' dipende da te entra in azione e abbiamo compromesso allora quello che mi viene da dirvi con questi oracoli è che probabilmente dipende da voi è uscito anche sulla carta di purificazione quindi dovete veramente purificare la vostra mente da tutti i preconcetti da tutti gli schemi mentali che credete veri ma in realtà non lo sono che magari sono semplicemente portati dalla società dalla visione del mondo che hanno magari persone che vi hanno educato oppure persone che hanno vissuto tante sofferenze che vi hanno parlato malamente magari dell'amore oppure di insomma delle relazioni in generale dipende da voi purificarvi da questo quindi entrate in azione per fare questa cosa e cercate anche di entrare in azione per aiutare la tempistica divina perché naturalmente se non fate voi qualcosa potrebbe essere che ci impieghi semplicemente un pochino più di tempo sapete che cambiare le vostre frequenze è la cosa migliore che potete fare per entrare in azione l'universo le capta e poi vi manda come dire la realizzazione proprio dal piano nel piano materiale quindi cercate di cambiare le vostre frequenze trovate un compromesso tra quello che è la vostra credenza e quella che è invece quello che volete realizzare sappiate che ci vuole sempre un bilanciamento in tutto ci vuole sempre un equilibrio in tutto quindi cercate di stare prima di tutto voi in equilibrio dopodiché vedrete che una persona in equilibrio arriverà io spero di esservi stata utile con questo messaggio vi saluto e noi ci vediamo domani sempre alle 20 con un nuovo video ciao ciao e buona serata